Siamo pronti a governare Roma e Marino deve dimettersi perché ormai si è dimostrato non in grado di bloccare le infiltrazioni mafiose all'interno del Comune di Roma e non possiamo continuare a drenare denaro pubblico, ovvero le tasse dei cittadini che poi vanno a finire nelle tasche dei pochi. Questa situazione deve finire e senza dubbio con nuove elezioni e col Movimento 5 Stelle una forza onesta e incorruttibile potremmo governare Roma in modo serio. Al PD hanno appena arrestato quattro persone, quattro esponenti tra consiglieri comunali e assessori. Da quando Renzi è segretario del PD hanno arrestato e indagato 50 persone nel PD. Noi abbiamo zero indagati, zero condannati e loro e zero arrestati e loro attaccano noi ma si facessero ricoverare. Orfini, Renzi, si facciano ricoverare perché il Movimento 5 Stelle è l'unico argine all'illegalità in questo paese.